e vado da maria ho un problema e chiedo l'intercessione di maria no amici questo è sbagliato in realtà prima ancora che no grande differenza che rende maria unica nel suo genere cioè anche quando noi ci mettiamo a pregare e non sappiamo che con anno vino facciamogli un bel miracolo magari ci sarebbe piaciuto che la storia fosse avvenuta in questo modo in realtà invece c'è una sorta di figlio indicando giovanni e poi guarderà giovanni gli dirà ecco tua madre vedete come l'evangelista tiene insieme di darci a qualcuno di chiedere a qualcuno non è un male la tragedia sarebbe se noi non pregassimo proprio nel momento in cui abbiamo più bisogno ma non percorso stiamo dicendo che questa è una casa di maria e sappiamo che è una casa di maria perché dio agisce l'amore di dio